Nina, tu conosci per caso qualche modo per far passare il singhiozzo? Mio papà dice che bisogna trattenere il respiro per sette secondi e a volte funziona! Ma è fantastico! Proviamo allora! Sole, prendi un bel respiro, così! Attento! Allontanati uno! Uno, due, tre... Quattro, cinque, sei e sette! Bravo, Sole! Ora puoi respirare! Ah, dove va? Come un palloncino! Allora, come va il singhiozzo? Oh, sembra che se ne sia andato! Sì, vado a fare il mio picnic! Come un pallone!